La banca del Cilento di Sassane Vallodidiano e della Lucania porta fortuna ai propri clienti. A dimostrarlo il signor Agnello Luongo, entrato nella filiale di Sapri a piedi ed uscito a bordo di uno scooter Piaggio Liberty 125 nuovo di Zecca. Insomma, alla banca del Cilento davvero tutto è possibile, come capitato al signor Agnello, risultato vincitore del concorso nazionale Possiamo, che nei mesi scorsi ha coinvolto circa 22.000 partecipanti tra gli esercenti Carta BCC POS e la loro clientela. Due premiati in tutta Italia e tra questi proprio il signor Agnello, rivenditore del Golfo di Policastro nel settore delle calzature, cliente della filiale di Sapri della Banca del Cilento e fruitore di apparecchiature POS acquisite proprio tramite l'Istituto di Credito, con sede a Vallo della Lucania. E non sono mancate le emozioni nella filiale di Sapri della Banca del Cilento per la consegna dell'ambito premio. L'ha vinto un nostro cliente e questa è la cosa più importante. Vuol dire che siamo sempre molto attenti a dare quanti più servizi possibili ai clienti e se ci sono delle novità. Quindi poterli premiare con qualcosa di particolare, come è successo in questo caso. è chiaro che si tratta anche di fortuna, che essere sorteggiato fra tanti è questione di fortuna. E il signore è stato molto fortunato. Noi siamo contenti perché resta nel Cilento, resta a Sapri, in una nostra filiale che è un fiore all'occhiello e che dà molti servizi. Il nostro cliente non deve essere sicuro solo quando sta in banca e ci porta tutta la sua benemerenza. Ma anche quando viene in banca, perché lo motorizziamo e lo facciamo stare sicuri con un'ottima assicurazione. Però mi raccomando il casco. Va bene direttore. Questo è l'unico investimento che deve fare lei. Io farò investimento. E ogni qua volta verrò a fare operazione, verrò con lo scooter. Benissimo. Ok. Però è anche una piccola catena, perché qua fuori non si sa mai. Forse è più bel complimento ve l'ha fatto il vostro cliente. Ha detto che ogni volta che viene qui viene accolto con il sorriso. Ci proviamo. Il signor Anillo è troppo buono. Comunque cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro e cerchiamo di essere disponibili e cordiali con i clienti. Insomma, poi con il signor Anillo è a maggior ragione facile, perché lui si presenta simpaticamente. Penso veramente di essere fortunato. Il fatto di aver vinto questo regalo meraviglioso, ma la cosa più bella è di aver conosciuto dei personaggi nel mondo della banca, di questa banca, persone che la rappresentano veramente in modo dignitoso. Mi sento onorato di essere in loro compagnia. Quando le hanno telefonato, lei non ci ha creduto subito di aver vinto? Veramente pensavo ad uno scherzo di qualche amico, devo dire la verità. Poi è molto simpatica la persona che era dall'altra parte. Mi dico, ma voi state scherzate? No, no, guardi che lei ha vinto veramente.